nel cuore di milano art gallery ospita biennale milano 2023 dove artisti di tutto il mondo si riuniscono per presentarci le proprie opere siamo in compagnia di salvo nuñez lui è l'ideatore intanto curatore d'arte scrittore tante cose vero salvo si vive con passione che so che si ama si fa e quindi si cerca di fare ciò che piace si sente tento chi vive con l'emozione chi vive di passione riesce a vivere una vita felice quanto meno e quindi andiamo avanti però questa sera tu sei il curatore di qualcosa di particolare il biennale di milano milano non è secondo certo a venezia è una grande città per me è la vera capitale d'italia dove c'è energia si possono realizzare i sogni e quindi sono proprio felice di poter dare inizio a biennale milano biennale milano international perché abbiamo artisti da tutto il mondo che vengono a milano da una cinquantina di paesi una cinquantina di paesi la mostra si apre sulle donne sulle donne è stata studiata tanti mesi fa adesso è più attuale ancora il tema perché con l'ultima diciamo tragedia di questa ragazza veneta giulia certo e quindi sulle donne sulla violenza contro le donne quindi le opere sono la maggior parte delle opere sono a tema però ecco io so salvo che biennale milano non è solo opere d'arte ma è dedicato all'arte in generale vero esatto ci sarà anche la musica la poesia la scrittura ci saranno l'arte a 360 gradi da stasera poi tutti gli altri giorni lo vedremo in pratica proprio ci vuoi commentare qualche opera possiamo girare anche qui da sonia bardella che ha fatto questo razzo meraviglioso a questo è un po più di leggiatria si una lavorazione quindi qua riusciamo a trovare qualcosa di diverso e poi spostandoci in questa direzione incominciamo vedere un bosco un qualcosa di penetrante e da ogemo beltrami pietro panza fino arrivare addirittura all'ultima cena come messaggio per dire questi sono gli artisti e il signore se non era un artista per antonomasia che ha creato così cose meravigliose le farfalle no e ci sono le donne di che parliamo e quindi è andato oltre voglio dire è un artista è il più grande voglio dire e quindi di qui troviamo qualcosa di colorato di simpatico e poi i miei viaggi come vedete riescono a essere introspettivi a volte immaterici si parla di natura di donna di ambiente ecco vedi attraverso le immagini di michela ilari le donne si apre come abbiamo detto prima sulla donna sull'ambiente sulla violenza della donna che è un tema fondamentale poi vediamo ci sono cardinali che fa qualcosa di più difficile diciamo e anche questo parla sempre della stessa tipologia di tema come puoi vedere tecniche pittoriche qual è che va ultimamente la più usata quella che piace e quella che più va perché la vendita va così va emozionale la vendita è emozionale come una donna a te può piacere tanto una che mi può dire meno quindi detta in maniera grezza proprio ci sono certo c'è la pittura più grassa la pittura più asciutta quella più perfezionista c'è l'astratto anche se io sono solito dire che anzi l'ho rubata vittorio questa che l'arte antica era molto difficile farla e facile da capire perché vi devi scena di tre metri anni di lavorazione l'arte moderna giri è molto più facile da fare quattro pennellate per più difficile da capire cosa ha voluto dire il pittore e allora chiudiamo così facciamo vedere i libri i libri c'è anche qualche libri presentati no qua non ci sono purtroppo però vedi bruno vespa mattia predi di vittorio gino de domini questo l'abbiamo fatto con vittorio nel 2011 mi sembra la biennale di venezia paretti noto artista calabrese vizzaca è vero poi abbiamo crato auge su bruno vespa il libro del papa francesco alberoni che era un caro amico gillo d'orres alviero martini zichichi che abbiamo presentato grande per paubas di villa catia ricciarelli insomma li abbiamo presentati tanti siamo andati a cerchiamo manca qualcuno salvo mettiamo il tuo non ci faremo una petizione infatti più di qualcuno certo nessuno non li compra perché ma non è vero vi ringraziamo salvo grazie a voi andrea è una persona eccezionale da belluno unica da belluno tutti ragazzi venite a vedere le nostre montagne il nostro cibo e le nostre donne e il nostro mare di alasio dove luca galtieri lì grazie a tutti